Mancano solo 10 anni e l'economia cinese diventerà la prima al mondo. Il 2032 è l'anno che vedrà il sorpasso da parte della Repubblica Popolare Cinese degli Stati Uniti. Il PIL cinese quest'anno è del 5% ma si calcola che da qui al 2032 annualmente supererà l'8%. La dimostrazione di come l'economia cinese di fatto sia molto vitale e che abbia ancora delle parti sostanzialmente di grande potenzialità appunto nel settore economico. Le vicende della crisi ucraina di fatto incideranno solamente parzialmente nel contesto dell'economia cinese quanto piuttosto invece mostreranno i loro effetti sull'economia americana. Queste sono le valutazioni che giungono dal consigliere al governo della Cina nel ambito economico. La Cina prosegue quindi la sua marcia iniziata nel 1997 quando Hong Kong dall'amministrazione britannica passava a quella della Repubblica Popolare Cinese dando il via a quel principio uno stato due sistemi che l'ha portata a raggiungere questi livelli e come detto la primarietà nel contesto dell'economia si mostrerà tra dieci anni mentre un'Europa che fa difficoltà a trovare se stessa e soprattutto un interesse che possa unire 27 stati membri in una direzione unica si trova invece ad affrontare delle crisi nel contesto interno legate anche alla guerra dell'Ucraina. Russia, Stati Uniti, Europa e Cina i quattro blocchi fondamentali nell'ambito dell'economia globale e non solo nelle strategie della geopolitica post 2020. Nonostante le contrapposizioni però gli effetti si mostreranno in maniera decisa su tutte queste quattro componenti dove ci sarà chi traverà vantaggio e chi invece ne trarrà ampio svantaggio ma è altrettanto vero che la sopravvivenza dei quattro blocchi è di fatto legata alla sopravvivenza degli altri. In questo momento in Cina come detto si guarda al 2032 come l'anno del sorpasso nei confronti degli Stati Uniti vicino a quel 2049 hanno molto atteso perché verranno celebrati i cento anni della nascita della Repubblica Popolare Cinese. Un appuntamento che già oggi si guarda con grande attenzione anche per il valore simbolico per il valore nazionalistico che quell'anno rappresenterà e di fatto il superamento da parte della Cina dell'economia statunitense rappresenterà un traguardo importante e fondamentale. Nel frattempo in Europa la vicenda dell'Ucraina ha oggi il vertice di Antaglia che porterà in Turchia le delegazioni e i ministri degli esteri russo e ucraino a un confronto nella speranza che la direzione possa essere quella del dialogo. Un dialogo che però al momento sembra molto difficile. Per oggi questo è tutto.